E credo che il punto però centrale sia non questo di stare adesso a discutere su il racconto personale della famiglia Renzi Assolutamente no, infatti la chiudiamo qua La dica, la dica Una Forza Io la vedo in giro Ho degli amici che mi aspettano, vada Trovo bellissimo che ci sia una personalizzazione di tutto quello che si vuole Ma quello che sta succedendo in Italia non è ciò che fa Matteo Renzi Oddio, invece lasci dire che sembrerebbe di sì Ma non è così E non è detto che sia un complimento Questo è un paese che si sta rivoltando È un paese che sta cambiando insieme La riforma costituzionale, la legge elettuale, la giustizia, la pubblica amministrazione Il sistema di mobilità Presidente, però aspettiamo di vedere un po' di risultati Sì, parliamo intanto se vuole No, non parliamo, ne facciamoli Parliamo degli occhiali Perché? No, non voglio parlare degli occhiali Però non voglio neanche dire faremo, faremo, faremo Quando poi li ha fatti Quando li ha fatti Scusi Non ne parliamo e diremo che ha fatto il Gioppez Io oggi non volevo parlarvi dei risultati dell'azione di governo Perfetto Andiamo a quella dopo No, prima parole vorrei vedere di parlarne Perché la riforma del lavoro c'è o non c'è? No, non ancora C'è? C'è? C'è, certo che c'è La legge delega è stata approvata Il decreto Poletti è stato approvato È chiaro I risultati nell'economia arriveranno Non sembra che se ne stia discutendo ancora nel PD parecchio o no? Il PD si discute sempre Ma questo non vuol dire niente È legge Cioè è pubblicata È ufficialmente legge Quindi è una di quelle che qualcuno avrebbe detto Fatto Non è chiuso comunque No? Niente è chiuso in politica Tutto può cambiare costantemente Presidente, mi perdoni Ma la sensazione che siano cambiate le cose È che proprio se si è andate da un'altra parte noi ancora non ce l'abbiamo Beh, questo la rispetto molto Probabilmente è colpa mia che non riesco a raccontarlo bene Però le posso garantire che Forse sì Sì, certo Però le posso garantire che in questo anno Il percorso di cambiamento Con tutte le cose che stiamo Anzi qualcuno dice persino troppe Troppa carne al fuoco Che stiamo mettendo No, ma la carne al fuoco c'è Porta l'Italia un bimbo La carne al fuoco c'è E infiamo a testa alta nel futuro E di questo io vorrei parlare più che di me O della mia famiglia Di questo vorrei parlare Altro che Royal Baby Oppure noi continuiamo ad avere un modello In cui l'Italia pensa di essere La bella addormentata nel bosco Dove tanto siccome noi siamo l'Italia Tutti verranno a trovarci E va a finire che mentre il mondo occorre Le nostre quotazioni E la nostra forza Presidente, lei sa benissimo Che è quello che vogliamo tutti noi E siamo qua che lo aspettiamo Però lo aspettiamo anche da 11 mesi Allora ci dica Andiamo in ordine Facciamo il punto No, non lo facciamo Mi perdoni Perché ho degli amici che mi aspettano E che l'aspettano Tanto non volevo su questo Tanto ci rivedremo Tra un anno E parleremo delle cose Che lei ha fatto E tutti le toccheremo con mano E saremo tutti felici Perché le vivremo Nelle nostre vite Oggi non volevo parlare delle cose da fare Quindi sono d'accordo di essere No, parliamo di quelle che abbiamo fatto Vai Non ne ho già fatte tante Noi ci aspettiamo che ne faccia Benissimo Molte altre Facciamo bene ad aspettarcelo Certo Mi sono bravo Perché mai tu devi fare quello Perfetto No in realtà Mi collego Mi collego con degli amici È il punto vero però È certo che è il punto vero È la vera sfida di rimettere in moto Un pochino di energia in questo paese Bene Abbiamo degli amici che ci aspettano Siamo tutti d'accordo Che il punto è quello R�i R�i